Allora, io sono Giulia, ho partecipato insieme ad altri ragazzi al progetto Name Climate Change e le aspettative rispetto a questo progetto, diciamo, in realtà erano un po' inesistenti, sono partite abbastanza neutra, però sicuramente un po' di pregiudizio c'era rispetto al fatto che queste siano tematiche che vengono trattate molto a giorno d'oggi e in tanti casi in maniera molto blanda e soprattutto perché comunque il tema è molto ampio, quindi si tende a volte a banalizzare, a generalizzare troppo. In questo caso invece secondo me un punto forte del progetto è stato focalizzarsi sulla tematica, sul legame tra il cambiamento climatico e le immigrazioni, che è qualcosa di cui non mi ero mai interessata prima e quindi sono partita con questa curiosità e sono rimasta molto contenta perché comunque abbiamo affrontato con degli esperti nel settore da diversi punti di vista, quindi dall'avvocata che si occupa di questi temi, quindi diciamo prende in carico persone che richiedono ospitalità in paesi nei quali i cambiamenti climatici ancora non hanno portato grandissimi problemi, ma anche ad esempio un ragazzo che ci ha presentato dei problemi relativi al trasciugamento del lago nel Chad, quindi diciamo lo stesso problema visto da diversi punti di vista e senza contare che poi ho trovato ragazzi molto interessati a questi temi, cosa che non mi aspettavo, quindi il gruppo ha lavorato molto bene sia nella realizzazione in pratica delle fotografie che nelle attività più teoriche e poi è stato comunque interessante lavorare con un fotoreporter professionista, quindi fare sia delle lezioni un po' più teoriche sulla fotografia che un po' più pratiche proprio su come effettivamente realizzare gli scatti che poi verranno esibiti nella mostra, quindi nel complesso posso dire di essere soddisfatta e sono sicura che comunque quello che abbiamo realizzato avrà un forte impatto perché penso sia stato fatto veramente con attenzione, con il cuore se possiamo dirlo senza banalizzare e quindi credo che queste cose abbiano sempre poi un potere sulle persone che le vedono.